Garelli XO200 da giugno disponibile nelle concessionarie, Garelli ha presentato il nuovo Garelli XO200, dopo che già nello scorso ottobre il modello era stato presentato in anteprima. Ora il Garelli XO200 sarà disponibile presso tutte le concessionarie dal mese di giugno 2011, così da affiancarsi nella vendita con i suoi fratelli minori, il 125 e il 150. Il 200 però sarà dotato di un nuovo propulsore da 199 CV con raffreddamento misto di aria e olio. Migliorata è certamente l'erogazione di potenza nei bassi regimi, senza per questo rinunciare alla velocità. Piacevole da guidare in città e nei percorsi extraurbani, la nuova linea è aggressiva e al contempo elegante, maneggevole all'utilizzo e con un design ricco di particolari che fanno del XO200 un modello unico nel suo genere. È appostrofo disponibile in quattro colori, nero, bianco, grigio e rubino. Il nuovo modello Garelli è indicato per coloro che ricercano uno stile giovanile ma allo stesso tempo elegante. Il prezzo è di 2490 euro.